Bella ragazzi ed oggi siamo qui con un nuovo video di magia con le carte da poker guardate da poker e visto che non ho uno spettatore dirò stop io guardate e memorizzatela e lo andiamo a mettere proprio qui in mezzo al mazzo fare un semplice movimento e come potete vedere aspettate un attimo che le sistemo bene in modo che si vedano tutte tutte le carte sono messe con il dorso rosso su tranne che uno che una scusate che sia del caso che sia proprio la carta che avevate scelto inizialmente se vi è piaciuto il video iscrivetevi e commentate alla prossima ciao